quindi registro, ok allora prima di partire con l'esempio il dubbio che avevo prima sono andato a verificare cosa abbiamo fatto nelle nostre soluzioni che poi vi mettiamo online non appena tutti quanti hanno finito di spiegare anche negli altri corsi in parallelo quindi lo trovate nel React Scores è tutto ben fatto ovviamente non possiamo fare Resolve User Resolve User indipendentemente dall'esito del confronto in uno dei due casi dobbiamo fare qualcosa di diverso per esempio possiamo fare Resolve False quindi falso e così che poi vabbè chi usa la Get User si accorge del fatto che ok, non c'è una Reject nel senso che non c'è stato un errore su Database quindi non è un problema di Database è un Resolve ma con un valore che non corrisponde a qualcosa che ci dice che l'utente è stato trovato con la sua password è corretta ok la domanda che mi è stata fatta nell'intervallo io la lascerei su Slack non è così importante sapere del sale diciamo voi usate questa procedura funziona tutto così il sale se lo gestisce la libreria ok, allora io ho preso il React Scores che è stato appena appena modificato e l'ho messo qui in Week 12 su AV1AL il nostro corso dalla A alla L cosa ha di diverso qualche piccolo ritocchino qui e là ma niente di significativo ha però di diverso in più questo è importante che il DAO di prima non lo usiamo più e diciamo sono stati fatti due DAO il DAO vecchio è diventato lo user DAO cioè tutte le no scusate non lo user l'ho sbagliato l'exam quindi tutte le funzionalità che avevamo prima list courses get courses list exam eccetera eccetera e siccome aggiungiamo gli utenti bisognerà modificare le query certe no diciamo list courses i courses sono uguali per tutti quindi non hanno bisogno di un utente però se io vado a prendere l'exam list exams devo fare un where user ID uguale a qualcosa se no ottengo gli esami di tutti quelli scritti no se ho gli utenti vuol dire che devo avere una colonna in più sul database che mi dica di chi è l'esame no quindi io ho anche cambiato lo schema del database quindi ci troverete poi un nuovo file SQLite e dovrebbe essere questo sì quindi c'è una tabella in più utenti vabbè questo ci sta utenti no niente di particolare ecco tra l'altro qui ci trovate gli hash non quelli che abbiamo generato col sito incollato qui in maniera veramente grezza ho lo stesso hash perché c'è la stessa password per i due utenti la password student ovviamente sarebbe cosa da non fare se l'avessimo fatto creati veramente con l'applicazione questi due pur avendo la stessa password sarebbero stati diversi per la questione del sale che dicevamo prima ma voi non preoccupatevi troppo insomma questa è una cosa un po' più di contorno l'importante è che abbiamo una tabella con un ID un'email una password non in chiaro e poi tutto il resto potremmo mettere nome cognome indirizzo quello che volete quello che ritenete possa servire per la vostra applicazione e poi e poi sulla tabella exam abbiamo una colonna in più abbiamo una colonna user ID adesso questi sono tutti del primo utente perché? perché dobbiamo sapere il 30 chi l'ha preso banalmente e questo vuole anche dire che quando facciamo le query sul database dobbiamo andare a fare un where user ID uguale a qualcosa perché altrimenti tiriamo fuori diciamo gli esami di tutti quanti ci andava bene prima che non avevamo gli utenti perché sottendevamo il fatto che c'era un unico utente e quindi di fatto non aveva neanche bisogno di autenticazione e niente nel momento in cui l'applicazione diventa multi utente dobbiamo gestire questo e quindi fondamentalmente tutte le query poi vanno modificate il motivo per cui me l'ho già messo perché sennò perdevamo tempo solo a fare queste modifiche che sono banali se ho quattro colonne anziché tre tutte le insert dovranno prevedere lo user ID tutte le update no vabbè sì l'update bisogna filtrare sul where su user ID perché devo aggiornare solo la riga che corrisponde all'user ID delete ovviamente quindi sostanzialmente dove c'è bisogno adesso le funzioni del database prendono lo user ID ok bene quindi partiamo da questo che io ho già messo in moto ho aperto il Visual Studio Code ecco io tendenzialmente apro a livello sopra di client e server così ho tutto in un'unica cartella così come quando consegnerete per l'esame anche per il BigLab 2 abbiamo predisposto questo template c'è una cartella client e una cartella server e potete aprire tutto di qui è già tutto qui a disposizione facilmente gestibile ok quindi prima di tutto vabbè ho avviato il client ho avviato il server l'ho fatto su una finestra a parte va bene c'è chi gli piace farlo qui a me non tanto perché poi mi confondo nell'andare a vedere cosa sta facendo apro il browser e se tutto va bene carico e questa è l'applicazione vecchia che non ha gli utenti quindi cosa facciamo per raggiungere gli utenti allora prima di tutto dobbiamo mettere uno username e una password quindi cominciamo dal lato client è la parte più facile quindi viso studio code dobbiamo integrare una vista con un form no allora io io farei un nuovo file qui ovviamente la decisione sta a voi quindi decidete voi come mettere i componenti nei file e tutto quanto ma io ovviamente seguo la mia anzi la soluzione è fatta a dire la verità del collega ma io ho un po' aggiustata ma component solo perché così quando facciamo i copy in colla dovrebbe funzionare tutto e facciamo un po' prima no e ci facciamo un form no un form io adesso faccio il copy in colla tutto quanto se no abbiamo tempo di scrivere form che dovreste già essere capace a fare mini paste e ce lo guardiamo un attimo aperte i soliti import login form username e password no quindi come abbiamo visto username e password use state stringa vuota è un form controlled quindi ci sarà form control type email va bene così ci fa già il control se è un email un HTML5 email password così quando scriviamo vengono fuori gli asterischi i pallini le callback diciamo di gestione del form controlled quindi set username set password che modificano lo stato niente di nuovo qui handle submit ok handle submit è una funzione in cui facciamo un minimo di validazione e poi e poi facciamo login con le nostre credenziali come sono fatte le credenziali un oggetto username e password vi ricordo che qui è solo una sintassi abbreviata per scrivere username due punti username password due punti password però penso che a questo punto di javascript siete abbastanza esperti giusto dunque qui si salva sì ok ah essendo un file aggiunto non mi riparte la cosa sotto interessante va bene cosa fa minimo di validazione mi raccomando questo è molto grezza se lo fate per l'esame almeno scrivetemi non so la password è troppo corta qualcosa di simile no se è valido faccio login se no set error message che magari un messaggio leggermente più indicativo quindi set error message cos'è un ulteriore stato così mi faccio un alert ho scritto il messaggino ok quindi ho fatto un componente login form poi c'è anche il logout ma il logout lo vediamo dopo praticamente è solo un bottone login devo metterlo da qualche parte questo form dove lo metto bene nell'app devo ragionare un attimo dove ha senso metterlo l'app è fatta con le root oramai è già un po' di tempo che le abbiamo introdotte quindi c'è la root add c'è la root update c'è la root slash ecco nella slash cosa succede bene io carico viene fuori tutto forse non è il comportamento corretto voi caricate google se non siete mai entrati su google viene fuori username password quindi al posto della root slash anziché mostrare tutto devo mostrare username password all'inizio almeno quindi andiamo a prenderci quindi io prima di tutto voglio che sia mostrato username password ok dove lo metto lo metto sulla root mi faccio una root apposta ecco questa è già una scelta che a cui dovete pensare un attimo nel senso che è un po' il dilemma delle root nel senso perché avete messo una root add e una root update no perché perché ritenete che logicamente l'applicazione sia ragionevole e suddividela in quella maniera lì no pensate che sia più facile da gestire pensiamo che sia più facile gestirla con una root login io direi di sì nel senso possiamo creare una root apposta per questo form non è obbligatorio così come non è obbligatorio non scrivere le root nel senso che potete andare avanti a forza di if e mostrare una cosa o l'altra o l'altra cioè react ve lo consente non è obbligatorio usare il router però se usiamo il router è diciamo un po' più ordinata l'applicazione questo collega chiede si potrebbe fare un controllo nella root slash se si è logati in caso fare un redirect esatto è proprio quello che andremo a fare adesso lui è andato un pochino più avanti diciamo che io cominciavo con una cosa più semplice nel senso che cominciamo con una root login quindi diciamo così di nuovo faccio il copy incolla perché se no perdo il tempo a scrivere oltre che mi sbaglio tanto prima o poi mi sbaglio quindi lo stesso quindi mi faccio la mia root login e poi arriviamo come andarci sopra slash login render login form ok a cui passo una do login che è una funzione che è quell'altra che avevo scritto di qua no login props do login no c'è l'endos submit dovrebbe fare login ah no scusate la passo come login quindi giusto la property si chiama login do login è la funzione che adesso mi scrivo che andrà a fare la chiamata verso il server la post con la user me la passo ok qui forse facendo un copiccolo sono andato un po' troppo avanti nel senso che cosa ho fatto fondamentalmente ho già testato is logged in eccetera diciamo che possiamo facciamo così va all'inizio ok quindi il minimo do login is not defined vabbè adesso facciamo un attimo const solo per farlo compilare e farvi vedere do login è uguale e niente così sta bravo login form is not defined perché non l'ho importato quindi devo fare l'import e diciamo che importare tutto così non ci disturba più anche il knockout perdono va bene questo è solo un warning ok mia applicazione non è cambiato niente no perché perché in realtà io ho fatto una root login slash login ok viene fuori il form ve lo sto costruendo passo passo perché se no tanto vale che vi do il codice finisce lì ok ho il mio form in cui posso scrivere quello che voglio vedete che password quindi vengono fuori i puntini anche se scrivo login perché non viene fuori il messaggio andiamo a vedere quindi farci funzionare un pezzettino alla volta allora la console del browser no non c'è niente di particolare ma mi sa che non ho collegato bene il bottone login che almeno l'ender dovrebbe eseguirmelo creandomi la cosa quindi login quindi app root login form ci sono tre stati ah ok va bene mi è venuto fuori l'errore quindi è semplicemente uno stato che uso per mostrare un messaggio poi correggerò e si aggiusterà ok quindi se io mettessi che so e a at p.it mi sembra che se fossero sei caratteri faccio login e sparisce no ho messo le mie informazioni e deve chiamarla due login che in questo momento gli ho passato una funzione vuota e non fa niente quindi agganciamola agganciamola e andiamo a creare qualcosa per questa due login quindi andiamo sull'app poi facciamo i vari redirect eccetera ma dopo perché abbiamo bisogno di uno stato per decidere se fare il redirect cioè dobbiamo sapere nell'applicazione se siamo loggati o no e dobbiamo quindi costruire un po' di cose prima di arrivarci quindi la due login la due login è ovviamente non con la vuota che ho scritto prende le credentials che mi arrivano da qui dalla due login e mi fa una chiamata API login ok quindi quindi va a chiamare il server adesso API quindi spero sia chiaro tutto credenti anche tutti credential è quello che io passo che sono queste che ho messo username e password e faccio login credentials quindi chiamo una callback che mi è stata passata come props al componente niente di nuovo fino qua API login passo le credentials login in API spero che ci sia no non c'è ancora allora la aggiungiamo non mi ricordavo più se l'avevo messa già o no quindi dobbiamo andarla a scrivere e andiamo a scriverla fondamentalmente fate un po' di copia e incolla dalle slide è un po' adattato faccio la stessa cosa io adesso qui è già un po' aggiustata no ma cos'è una login è semplicemente una fetch di un endpoint che dobbiamo decidere come si chiama nelle slide si chiama slash login qui cerchiamo di mantenere un po' d'ordine API session dunque si chiamano tutti API con base rule quindi se la volesse scrivere bene dovrei scrivere base rule più quindi si è stati un po' grezzi nell'esempio poi cerchiamo di sistemare però queste sono proprio dettagli di programmazione minuscoli no ecco io vi consiglio di usare slash sessions perché perché alla fine se volete le sessioni sono una collezione quindi un po' come avere exams eccetera poi se proprio non resistete le potete chiamare login logout va bene lo stesso però diciamo che abbiamo le sessioni chiamiamola pure session qui potremmo chiamarla Pippo non fa niente l'importante è che sia una post che si dedisca il contenuto in application JSON e che mandi le credentials quindi un oggetto credentials viene trasformato in JSON si response ok ok allora mia risposta la prendo in JSON la metto dentro user la ritorno poi vedrà chi mi ha chiamato cosa farne e se c'è stato un problema vabbè insomma mi gestisco l'errore deciderò cosa farne adesso l'errore lo lasciamo un attimo in sospeso però fondamentalmente se ho un messaggio di errore tipicamente è una stringa voglio visualizzarla l'utente devo solo un po' fare attenzione tra oggetti stringhe tutto quanto dove l'ho messa ma a parte quello fondamentalmente riesco a gestirmi il problema diciamo che questa parte non è mai così fondamentale almeno all'inizio poi per completare bene l'applicazione è carino che funzioni bene quando sbaglio e vorrei che qualcuno mi dicesse attenzione riprova però per provare ci serve la parte sopra login la devo esportare mi sembra sì facciamo così io le esporto metto anche le altre intanto che andremo a fare così perdiamo meno tempo ok alcune non esistono ah scusa se poi le metto mi disturberà che dice che non ci sono ok va bene quindi io adesso faccio chiamo login in app in app chiamo login e quindi la richiesta verso il server parte e non c'è la parte server però possiamo già testare io vi invito sempre a provare sempre 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 a provare perché se provate pezzetto per pezzetto è più facile trovare gli errori mano a mano che sviluppate io adesso prendo il tab network scrivo un email perché se no non mi passa la validazione del form scrivo un po' di caratteri login ecco non parte verso server perché quindi c'è già qualcosa che non va va bene eh no spaventiamoci allora state dovrebbe aver chiamato la login no possiamo anche giusto così per curiosità non è che mi piace tanto andare a debuggare nel browser ma semplicemente perché perché poi si perde tanto tempo e diciamolo meglio è meglio fare una cosa forse non ho salvato solo dice che non ho salvato ecco cosa più idiota di tutte no set logged in non è defined ma in questo momento la commentiamo ok quindi scusate salvare mi dimentico sempre p.it mi scriviamo qualcosa quindi non c'è più bisogno di debuggare spero network pulizia login e parte la richiesta post verso api session con una richiesta nel body row payload json ok è quello che ci aspettiamo ok siamo a posto sul client andiamo sul server mi raccomando se qualcuno ha dei dubbi o dei problemi mi interrompa io monitoro slack magari ogni tanto sono un attimo concentrato ci metto un minuto a rispondere ma ma guardo quindi a questo punto abbiamo esaurito il pezzettino numero uno sul sul client il form andiamo sul server e andiamo a integrare tutto il meccanismo passport no quindi per questo lo volevo tenere aperto no quindi qui ce l'abbiamo server quindi come facciamo bisognerebbe andarsi a prendere le slide e andare a vedere quello che abbiamo scritto che abbiamo scritto di fare quindi allora il nostro server allora mi metto a fare tutti i vari import o meglio i require no perché sono require quindi faccio copio incolla faccio un po' di require faccio l'incolla perché perché alla fine voglio dire non c'è niente di speciale no passport passport local punto strategy qui ho fatto leggermente diverso non l'ho già chiamato local strategy così mi avanzo di scrive punto strategy ma niente di speciale express session user DAO exam DAO sono quei due file che vi facevo vedere prima quindi non mi serve più questo lo butto via ok ho fatto i miei import in realtà devo fare anche quindi facciamo salva e adesso il terminale era meglio se lo tenevi lì ok npm install e devo installarmi i pacchetti quindi passport passport local e dunque cos'era bcrypt per dopo e poi c'era qualcos'altro express session express session questo dovrebbe essere abbastanza rapido vi ricordo questo va a finire nel package json eccetera no quindi fa tutto da solo quindi giusto per dove il package json vi ritrovate bcrypt express session tutto quello che avete installato e e e a questo punto mettiamo le funzioni no quindi facciamo effettivamente funzionare la la cosa quindi noi abbiamo detto che per far funzionare passport dobbiamo allora dirgli di usare il meccanismo username e password quindi quindi copia e incolla del codice della slide no passport use new local strategy quindi il codice della slide niente di particolare quindi ecco local strategy new local strategy questo pezzettino di codice magari è appena modificato ma niente di particolare username e password user dao get user user in password then e e c'è questo dan da chiamare con un falso con user ok in a seconda del risultato dell'operazione ok forse conviene correggere tutti i vecchi dao con dao exam e si si ha ragione ragionissima anzi grazie del suggerimento era un po' in dubbio se metterveli già corretti o no e è giusto quindi dunque replace quindi dao punto exam dao punto eh quindi ops dunque com'è che si fa a dire fallo quindi qui no però mandi in selection ebbè perché non mi fa replace replace se non ricordo ah replace eccolo qua sì scusate ok quindi vabbè mi sa che ho corretto un attore che troppo exam dao user dao va bene dovremmo essere a posto grazie grazie del suggerimento molto apprezzato quindi semplicemente perché abbiamo separato user dao exam dao ma niente di particolare cioè se lo volevate tenere insieme chiaramente più la cosa diventa grande più dovete vedere se vale la pena riorganizzare un po' il codice eh quindi però queste sono questioni proprio di programmazione che non c'è niente di particolare da capire poi abbiamo la necessità di avere le due funzioni di serializzazione e deserializzazione eh quindi come le slide ok quindi mapping session id utente e viceversa eh io allora qui ho fatto una scelta che è anche la stessa cosa che ho fatto nelle slide cioè io ho il database fatto così eh l'abbiamo visto prima utenti adesso vanno utenti l'utente ha un'email una password e vabbè questo mi serve per fare l'autenticazione ma qui ho scelto che come identificativo dell'utente usavo l'id l'id che ho nel database ok questa è una mia scelta diciamo che avrei potuto anche usare un'email eh tendenzialmente voglio un id piccolo e possibilmente magari scollegato da altre informazioni cioè l'utente un giorno può decidere di cambiare email no ma resta sempre lui non è che per questo devo distruggergli il profilo eccetera cioè se voi non so vi registrate al Politecnico vabbè avete la vostra email ma non lo so sul sito degli sviluppatori boh intel che ne so e fornite la vostra email personale at gmail no e poi un giorno decidete di cambiare e dire beh io queste gmail non la uso più perché mi sta antipatico adesso mi sono fatto l'email a Yahoo no e voi rimanete sempre gli stessi volete poter cambiare la vostra email no magari fare il login con la vostra nuova email ma tutto il vostro profilo tutte le vostre configurazioni tutte le vostre cose tenerle quindi questo è un'idea che vi consente di disaccopiare il nome utente che nel nostro caso l'email che vogliamo usare per fare il login dall'identificativo interno del sistema che identifica l'utente quindi questa è per esempio una delle motivazioni che mi potrebbe spingere a scegliere di usare un ID piuttosto che l'email come identificativo all'interno della sessione vi ricordo che né il numerino né l'email si vedono poi nell'identificativo della sessione andiamo a vedere com'è fatto il cookie vedrete che non si vede perché perché è come dicevamo cifrato eccetera quindi non si vede comunque però la differenza tra le due è questa nel senso che disaccoppio un identificativo che all'utente di fatto non serve perché l'ID che io sia il numero 25 38 mila non mi interessa mentre la mia email invece è un qualcosa che mi interessa disaccoppio le due cose usando un identificativo diverso ok quindi io scelgo che dato l'utente se lo devo serializzare nella nell'identificativo di sessione quindi quando mi arriva l'utente che mi fornirà username passo io tiro fuori dal database tutta quella riga tiro fuori anche l'ID prendo l'ID e lo do a passport per creare l'ID di sessione ok e al contrario quando poi mi arriverà il cookie che conterrà a questo punto quello che gli ho detto io di contenere che l'ID dell'utente io prendo questo ID vado a farmi una query sul database su quell'ID che ovviamente deve essere unico e mi tiro fuori tutte le informazioni dell'utente incluso username password nome cognome tutto quello che ho messo ok quindi queste due funzioni fanno questa operazione ok la prima ovviamente è la più semplice perché l'ID ce l'ho già nell'oggetto user devo solo andarlo a prendere la seconda mi richiede un accesso al database quindi user DAO in user DAO c'è get user by ID user DAO get user by ID va a fare una select from user where ID uguale in un'attesa speciale e poi mi ritorna un oggetto user in cui ci metto tutto no colonna ID colonna email colonna vabbè la password non mi serve tanto la password appunto la uso quando devo fare la verifica quindi come avevamo visto sulle slide raw password ma mi serve quando vado a fare la verifica cioè email password e devo andare col bcrypt a verificare se va tutto bene qui invece devo solo tirar fuori il nome del utente l'email e tutte le altre informazioni che mi possono essere utili per fare altre operazioni perché non riverifico la password qui ma perché questa è stata cioè questo ID è stato estratto dall'identificativo di sessione il server ha la lista delle sessioni attive se mi arriva un identificativo di sessione tra quelli attivi io sono tranquillo che è stato ottenuto con una transazione precedente con lo username ma password ok perché glielo ho dato io server ok ed è anche il motivo per cui va tenuto segreto come dicevamo prima va fatto passare sulla socket tps eccetera cosa che non facciamo perché noi vogliamo fare delle prove vogliamo capire il meccanismo ma poi se lo mettessimo ad avere in pratica dovete proteggere deve passare sulla socket tps chiunque ve lo rubi fa le richieste come se foste voi perché il server lo riconosce tra le sessioni attive e quindi semplicemente va su database dall'id prende le vostre informazioni e poi agisce come se foste voi ok bene quindi abbiamo messo local strategy con la callback per fare l'autenticazione quella che abbiamo visto prima a get user serializzazione e deserializzazione che ci sono richiesti da questo express session è usato con passport e a questo punto e a questo punto devo scrivermi la root di autenticazione ero rimasto che avevo il form devo creare la sessione per cui ho bisogno di tutta questa roba ma devo anche scrivere la root slash api slash session oppure slash login se vi piace di più e quindi vado a metterla ok ah no scusate c'è ancora un pezzettino sono dimenticato sono dimenticato ed è in middleware scusate di dire di usare le sessioni perdono chiedo perdono quella roba in cui abbiamo detto vabbè la frase segreta false eccetera usare le sessioni e come sulle slide inizializzare passport però questo voglio dire il copia e incolla è uguale identico al testo delle slide non c'è niente da capire come scriviamo use morgan dev use spjson use passport initialize se volete cambiate la passo diciamo che per l'esame non mettetela mettetela tranquillamente sul git tutto quanto tanto non usiamo l'https non usiamo niente va bene così se veramente andaste ad utilizzare la vostra applicazione in pratica bisogna fare un attimo attenzione a dove si mette questa roba qua quindi non condividere l'universo mondo chiaro che qualcuno avrà accesso l'amministratore del sistema quando installa l'applicazione la vede da qualche parte però di per sé voglio dire è l'unica persona di cui vi dovete fidare di cui vi fidate in generale ok allora la root la root di autenticazione quindi la post session quindi la post session e andiamo a farcela quindi allora prima di attivare il server cosa sono 10 5 sì allora mi è saltato un pezzettino user api quindi quella che abbiamo visto sulle slide di nuovo leggermente modificata ma sto prendendo dalle slide faccio solo il copio e incolla perché se no non finiamo più e dunque dove era prima no quindi abbiamo la questo era il form local strategy tutto quanto la root ok diciamo questa qui passport authenticate local ok è leggermente più complicata nel senso perché voglio gestire gli errori no quindi però è password authenticate local niente di così strano ok o semplicemente nella pratica gestito un po' meglio l'errore no quindi quindi se il punto chiave è fondamentalmente questo no cioè se va tutto bene se non ci sono errori quindi se non è stato impostato R come callback di authenticate local fondamentalmente io vado a fare il login no quindi fondamentalmente dico a passport di creare la sessione no se va tutto bene nella creazione della sessione andrò avanti e faccio la mia chiamata next e tutto il resto viene processato ok se va tutto bene però faccio che fare return no res json rec user perché faccio ritorno lo user ma perché potrebbe essere utile l'applicazione cioè una volta che io mi autentico l'applicazione il server scusate risponde dandomi tutte le informazioni dell'utente mi piace il colore scuro qui non c'è mi chiamo in una certa maniera questo invece c'era nel database no quindi c'era ho sbagliato ecco c'era qui nome nome student test vabbè potete scrivere Enrico eh nome cognome quello che volete questa informazione viene restituita in questo momento quindi qui come una risposta res json con l'informazione dell'utente da dove mi è uscito rec user non è che originariamente ci fosse rec user rec user mi è stata impostata da tutto questo lavoro che ho fatto cioè della rec login ok se tutto è andato bene quindi qui rispetto al caso diciamo della slide in cui c'era solo sostanzialmente ok ah mi sa che qui mancava un pezzettino bisogna fare login vabbè scusate si vede che siamo a fine corso va bene abbiamo dato una risposta positiva perché qual è il problema se non faccio il login è che non si crea la sessione ok va bene quindi t per sé adesso dovrebbe funzionare quindi io salvo vediamo se parte quindi faccio notmon server se non ho fatto pasticci parte il terminale e per sé potrei anche non farlo ripartire ma così mi fa il monitoring dell'altro file lo fermo e lo faccio ripartire file out che ho aggiunto che era login component e quindi adesso un attimino speriamo che vada tutto un attimo per quello che non è bene farlo ripartire a tutti i momenti allora siamo qui perché perché non abbiamo redirect arriva su slash mettiamo login ok mettiamo login sempre col tab network quindi adesso devo mettere per davvero quello che ho nel database se no mi risponde che va bene quindi devo mettere student student pulito it e poi la password e di qui non sconosco la password la password dove la dico oppure ve ne è generato un altro fatto un altro copy e ho cambiato il valore qui questa è l'idea di avere la hash che leggendo questo non so la password né io né nessuno se la messa il mio collega non me l'ha detto mi aggiusto o la tiro a indovinare se ha usato una password semplice se riesco che è proprio quello che fanno quelli che ottengono i file con gli hash oppure oppure la cambio quindi dunque dovrebbe essere student allora student at studenti pulito it e la password student nel readme vi chiederemo di scrivere la password le password che usate per poter testare l'applicazione oltre di user name e poi no niente e noi ve l'abbiamo scritta nel readme ovviamente ma a parte il fatto che la dico adesso a lezione quindi network io schiaccio e dovrebbe andare la richiesta stavolta è andata risposta 200 a post no quindi request e in json giusto username password risposta risposta c'è il json che ho detto di mandare indietro rec user che è quello che è stato popolato da passport ok tramite la callback di autenticazione cioè questa qui la callback di autenticazione è questa andiamo su quella che prende user e mi passo no get user mi dà indietro user cosa c'è in get user devo andarmelo a vedere era user dao get user mi dava questo oggetto qua no questo oggetto qua che io ho preso e mi ha andato indietro con punto json e infatti mi ritrovo questo quello che vedo qui è quello che mi ha fatto appena vedere nel codice ok ok cookies response cookie allora request cookies ma c'è sta roba che mi sa che me l'ha infilata il development server di react per qualche motivo non so dirvi perché a me interessa questo mi è venuto fuori un cookie da passport con il express session ok che si chiama connect.seed perché perché così quello è il default da qualche parte ci sarà anche la possibilità di cambiarlo ma non mi interessa l'importante è che se ho più siti non mi vadano in conflitto però più siti intendo sullo stesso dominio stessa porta cosa che normalmente c'è un sito solo un'applicazione solo è un cookie http only percorso slash valore questo ma io non so cosa ci sia scritto dentro questo è un valore che ha tirato fuori passport ok lì dentro da qualche parte ci sarà scritto id 1 ma a me non interessa perché se lo gestisce interamente passport quindi ci sarà questo id perché io nella serializzazione quando ho fatto la serializzazione in server io ho detto di metterci quella roba lì in serialize io metto di metterci user id e lui non mi scrive 1 perché sennò chiunque lo indovina basta che non so spera che l'utente 27 sia attivo prova a mandare una richiesta al server con scritto 27 nel cookie e a lei entra come l'utente 27 ovviamente non può essere in chiaro deve essere un qualcosa che è casuale quasi casuale quasi casuale nel senso che comunque il server da qualche parte deve essere in grado di ricostruire a chi corrisponde come utente come informazione e nel nostro caso l'utente perché non interessa l'informazione dell'utente ok quindi attenzione a queste cose gli header vediamo gli header giusto per farvi vedere come funziona solo una volta e non lo faccio poi più vedere però questi sono gli header di richiesta non c'è nessun cookie tranne quelli due ok nella risposta vediamoci lì grezzi nella risposta c'è un set cookie che è standard connect seed uguale e tutto quel valore con tutto il resto http only eccetera che poi interpretato vabbè non viene interpretato qui viene interpretato nel tab apposta mi dice come è fatto il cookie ok a questo punto nello storage vi ritrovate il cookie il browser se lo ricorda questo è un cookie di sessione no quando scade scade quando chiudo il browser fondamentalmente di nuovo in uno scenario reale dovremmo paccioccare un po' con l'opzione magari pensare che non scada quando chiude il browser quando chiudete il browser come i cookie che so di google gmail eccetera chiudete il browser se lo riaprite siete ancora loggati perché perché il browser se li ricordano e hanno una scadenza un po' più in là magari dopo una settimana o se siete la banca dopo dieci minuti li fate scadere però quindi a seconda dell'applicazione decidete un po' voi quando devono scadere noi non ci preoccupiamo lasciamo le disessione coscienti che quando chiudiamo il browser riapriamo dovremmo riautenticarci ok bene adesso abbiamo il cookie se noi facciamo un'altra richiesta e io adesso ah questo però poi dunque ho fatto la richiesta a post e dovevo fare in modo che però a fronte della risposta andasse a caricare il resto ecco una cosa che non ho ancora fatto nell'applicazione no quindi adesso sono bloccato su questa pagina però ecco vi faccio vedere che cosa succede se io mando una richiesta su slash o un qualsiasi altro urlo l'importante è che sia sempre localhost 3000 anzi apriamo il tab network ok ovviamente non funziona no non è che mi carichi gli esami perché non ho ancora finito quindi la sessione non è limitata a un tab del browser è su tutto il browser esatto è ottima osservazione no questa è la prima richiesta la slash guardalo lì c'è il cookie nella richiesta se apro più tab basta logare una sola volta esatto esatto localhost proviamo eh ah scusate forse devo aprire prima il tab network che mi sa che non me l'ha fatto vedere sono su un altro tab richiesta cookie request cookie guardalo lì c'è ed è anche un po' la maledizione in un certo senso nel senso che se il browser è aperto è un utente non posso logarmi con un secondo utente contemporaneamente no se avessi due account e devo trovare un altro sistema la modalità invisibile del browser giusto così questa è proprio una curiosità no se fate la private window eh vabbè adesso però devo aprire prima il tab network va bene ricarico se fate la private window qui il cookie non c'è eh perché? perché è proprio lo scopo no non c'è il cookie l'unica cosa è che tutte le private window anche loro sono condivise va bene ma questa era una curiosità ok andiamo avanti con l'applicazione quindi noi abbiamo la richiesta post partita c'è impostato il cookie ha avuto successo perché ha avuto una risposta 200 no? come vedevamo prima adesso l'ho distrutta vabbè prima c'era 200 post ok come faccio nell'applicazione ricordarmi che sono autenticato e quindi a fare tutte le azioni che posso fare da autenticato e dicevamo sulle slide devo in qualche maniera memorizzarmi questa informazione quando devo memorizzare un'informazione sull'applicazione quindi adesso io lascio il server di nuovo e torno sull'applicazione quindi torno sull'applicazione quando devo memorizzare informazione dove volete che la metta la metto in uno stato no? quindi quindi mi faccio uno stato e in questo momento in questo esempio mi faccio lo stato più semplice possibile no? che è un boolean che mi dice se sono logato oppure no ok? questo è il più semplice stato che potete mantenere nella vostra applicazione per diciamo farla funzionare poi una volta che vi siete autenticati perché ho bisogno dello stato nell'applicazione e per sé come abbiamo visto le richieste autenticate funzionano lo stesso cioè il cookie viene spedito dal browser non è che il nostro codice javascript che tra l'altro vi ricordo non può accedere al cookie perché abbiamo messo http only ma perché l'applicazione deve sapere se diciamo è autenticato oppure no così farà certa operazione oppure no cioè la nostra applicazione se sa che non è autenticata non è che va a chiedermi la lista degli esami perché tanto sa che il server risponderebbe non te la do ok quindi ho bisogno di uno stato nell'applicazione per comportarmi di conseguenza sul fatto che sia autenticato oppure no lo stato più semplice è sono autenticato no boolean se voglio qualcosa di un po' più sofisticato metto delle informazioni sull'utente oggetto oggetto vuoto oggetto con qualche informazione sull'utente nome cognome eccetera ok dove le ricavo le ricavo al momento della risposta della post infatti è proprio quel pezzettino che avevo commentato prima avevamo la do login set logged in true se volevo altre informazioni avrei preso set authenticated user aperta tonda user se volevo tenermi lo user e scrivergli ciao Enrico ciao student non so cosa avevamo adesso noi facciamolo col boolean solo perché più vabbè adesso ce l'ho fatto col boolean ma se vogliamo metterci una stringa un oggetto con delle string eccetera possiamo farlo è uno stato si ricorda come la lista di task come la lista degli esami la lista di corsi eccetera ok come facciamo a fare in modo che quindi l'applicazione adesso vada avanti avanti vuol dire carichi i corsi carichi lo stato eh non lo stato gli esami beh devo fare in modo di scatenare le use effect con le callback che vanno a fare le richieste al server ok quelle che prendono su i corsi e gli esami bene come faccio allora io adesso ho logged in non fatemi rifare l'operazione nel browser se andassi a vedere dovrei aprire il diciamo l'inspector dei componenti react e vedreste diciamo se rifacciamo l'operazione che c'è uno stato che è true prima non c'era perché non l'hanno messo bene noi il lavoro l'abbiamo già fatto l'altra volta no quindi avevamo già le get courses e get exam quindi queste ci sono dobbiamo solo farle funzionare al momento giusto ok quindi qual è l'idea qualcuno ha un'idea come fare che io devo far girare una callback nel momento in cui diciamo si è verificata una variazione dello stato come si fa con la use effect abbiamo una lista di dipendenze introduciamo questo stato nella dipendenza giusto log in ok metto log in qui sulla prima use effect poi avevamo la seconda use effect che però dipendeva dalla prima dal course slant ok e quindi impostare cambiare lo stato del log in che all'inizio è ovviamente falso perché finché non ho verificato che l'utente è autenticato per me è falso poi arriviamo a capirlo se possiamo far diverso ma all'inizio è falso faccio la post set log in in true questo scatena la prima use effect e carica i corsi che scatena la seconda use effect e carica gli esami ok ok quindi devo solo ancora aggiustare una cosa nel senso che io la faccio sulla root log log no come la root l'abbiamo chiamata login no e quindi devo capire dove mandare l'utente nel senso che siccome io sto usando la root una volta che ha avuto successo l'autenticazione io vorrei che l'utente andasse a finire da un'altra parte no quindi quello che avevo scritto all'inizio logged in è anche la variabile che mi che decide dunque scusate volevo fare la cosa giusta questo è in app sì ok ah no la root ecco sto copiando la riga sbagliata perché non ci sto quindi voglio capire se sto se devo stare in login oppure no come faccio a cambiare pagina root diciamo con redirect no sapete abbiamo redirect se il valore di logged in è true faccio un redirect a slash cos'è slash è la pagina dove c'è la tabellina con tutti gli esami ok se è false come è false all'inizio dell'applicazione mi viene mostrato il mio login form perfetto ok se no avrei avuto lo stato true logged in ma non succedeva niente c'ero io che dovevo andare a navigare su slash e ovviamente non è quello che si aspetta l'utente no chiaramente quindi salvo redirect is not the file che mai noioso sta a fare allora dove redirect ok dopo ho fatto va bene riproviamo consentitemi di fare una cosa adesso io faccio login quando fate le prove ecco scusate c'è una domanda prima di andare avanti potrebbe succedere che la useEffect con l'aggiornamento della dipendenza venga eseguita prima della redirect direct sì sì aggiornamento della dipendenza sì sì ma ma quindi nel senso non è un problema la useEffect cambia un altro stato cioè questo è il meccanismo di react uno stato scatena il cambio di un altro stato eccetera basta che prima o poi mi fermi se no vado in loop ma va bene poi quando cambia lo stato della root nel senso cambio root questo stato che è interno non è visualizzato in nessuna parte verrà visualizzato sulla pagina anzi direi proprio che è quello che succede nel senso che la useEffect gira dopo che io ho cambiato lo stato e divento logged in prima che venga fatto render non si perderebbero i dati che arrivano con la redirect no no la redirect è un'operazione che viene fatta esclusivamente sul client dal router di react lo stato dell'applicazione viene mantenuto fino a quando io non prendo e ricarico la pagina con il bottone reloa del browser lo scrivo un nuovo urlo nel browser sennò tutto quello che io ho nello stato della mia applicazione viene mantenuto ok non si perde non è una redirect lato server è una redirect del router di react redirect lato server vi fa perdere tutto ma non lo usiamo noi infatti perché è l'approccio vecchio a fare l'applicazione cioè ogni volta carico una nuova pagina del server noi lavoriamo sul client ok vi dicevo se appunto mi metto a fare le prove email password ho messo questa questa email lunga password lunga eccetera io vado a fare questo trucchetto vedete voi poi se mantenerlo per l'esame oppure no ma insomma dov'è che login components io faccio questa cosa lo stato iniziale è student at studenti polito it e la password è student perché lo faccio ma perché cliccherò 50 volte adesso su questo login per fare le prove e se tutte le volte devo scrivere tutto non finisco più diciamo come nota a margine apprezzo chi all'esame almeno mette un utente già in forma ma perché velocizza un po' il test quindi io quindi io adesso log in e mi ritrovo già tutto scritto quindi devo solo premere log in ma è solo una comodità ovviamente google non fa così nessun sito vero fa così perché se no che senso ha ma io per fare il test per comodità faccio così così adesso premo su login vedo cosa succede solito tab network login ok post mi va a fare la gate su courses ok poi c'è qualcosa che non ha funzionato adesso andiamo a cercarcelo però intanto ho cambiato root no perché? perché ho fatto redirect slash no ok va bene not modified è come se mi avesse risposto 200 questa è una storia un po' più lunga però per l'applicazione è come se vedesse 200 quindi io la response ho i miei corsi la re dei corsi dunque però perché non me li fa vedere perché mi sa che non ho cosa non ho fatto a questo punto se io metto API exams dovrebbero no non c'è il proxy ah no forse non ho attivato il no è attivo sempre metto API exams dovrebbe andare dunque quindi io in app faccio get courses slogged in set courses e poi dovrebbe partire l'altra set loading false eccetera no perché non va allora consentitemi di fare ricarichiamo l'applicazione no ecco facciamo facciamo un'operazione ma perché adesso mi sto cominciando a stufare di mettere appunto questo e viene fuori la la root slash no facciamo all'inizio una rediret sul login così intanto magari scopriamo cosa c'è qui quindi aggiustiamo il fatto che io quando carico l'applicazione dovrei finire su non qui ma sulla pagina e login se non sono autenticato adesso per qualche motivo non non beh quando carico così è ovvio perché non ho fatto l'autenticazione va bene però quindi non c'è nello stato il fatto che sono autenticato questo quindi lo carico così in app questo qui è l'ultimo e purtroppo non ci sono i nomi non sono autenticato perché perché l'applicazione una volta che carica se non è chiesto al server parte dello stato non autenticato e va bene però dunque allora aggiustiamo il fatto che vado su login come faccio? di nuovo con un array direct io direi se nessuno di voi ha un'idea diversa nelle root root path slash che è quella che viene caricata quando noi mettiamo localhost 3000 andiamo a dire di andare a seconda di come siamo messi pensiamo su logged in cioè logged in è impostato no? quindi logged in sì allora va facciamo mostriamo tutto il contenuto ok dunque qui ci sono due row perché c'era anche il loading sì message ah mi aveva spostato il message vabbè diciamo che qui allora dobbiamo fare così andando un po' più a naso ok se no redirect direct tu uguale log in ok allora sì è a posto diceva log ed non è meglio metterlo fuori da react fragment fragment sì ma fa lo stesso nel senso che c'è solo e no però beh sì visto che ho messo il fragment dentro sì si può anche mettere fuori però se non avessi messo mi serviva il fragment fuori perché questi sono due e quindi se è valido ne ho poi due da qualche parte deve esserci react fragment ok però questa è appunto una technicality di diciamo del JSX che a questo punto penso conosciate bene fa lo stesso il react fragment non viene renderizzato quindi ok quindi proviamo questo io carico ecco avete già visto 3000 e lui fa redirect e mi manda il form di login perché? perché all'inizio state false e mi mostra mi fa redirect e mi manda il form di login ok anche qui è facile sbagliarsi nel senso che chiaramente bisogna che sulla root di login non è che rimandiamo a slash perché cioè lo facciamo solo quando il login è impostato perché se no creiamo il loop no? ovviamente va bene quindi adesso provo e allora c'è una cosa che non va che non carica quindi mi carica exams ah ecco exams no me lo carica ma è vuoto quindi quindi c'è qualcosa da capire sul server probabilmente non ho inserito il middleware che va a prendere lo user giusto e mi sbaglia la query sul server ok mentre per i corsi se non ho bisogno di niente perché sono uguali per tutti gli utenti devo andare sul server a fare in modo di recuperare l'informazione del utente quindi server server quindi ho la get API exams ok che andrò a modificarmi perché devo dirgli come recuperare il l'utente cerco il file così anche perché il tempo stringe come sempre server ecco allora non riusciremo a finire tutto ma avrete la soluzione completa allora cosa facciamo qui qui abbiamo bisogno di infilare un middleware e questo lo facciamo su tutte le API che devono essere autenticato cioè devono conoscere la sessione che che vado a recuperare l'informazione relativa al alla sessione no perché perché sennò qui cioè io qui in exam.dao list.exams se andiamo su exam.dao list.exams io ho bisogno del parametro se non passo user.id cosa succede? probabilmente la query non dà errore non so ci sarà stringa vuota però la risposta è vuota quindi prima di tutto devo passare al parametro quindi qui devo passare qualcosa adesso decidiamo come faccio a tirarlo fuori questo è il abbiamo detto che è rec user una volta che ho la sessione questo l'abbiamo scritto sull'estite no? passport mi mette in rec user l'informazione che è estratto dalla sessione con i suoi serialize deserialize tutti i suoi meccanismi e io qui in realtà volevo l'id perché deserialize mi dava l'oggetto user e prendo l'id come faccio a mettere il middleware qua? in realtà l'abbiamo visto su un slide la nostra is logged in questa è un'api se ho bisogno della sessione vuol dire che è un'api autenticata quindi tanto vale mettere la funzione che abbiamo definito prima is logged in spero che l'abbiamo già messa se no la dobbiamo ancora fare la facciamo non so se l'abbiamo già messa forse no logget in no non l'abbiamo ancora fatta allora andiamo a farla ed è l'ultimo pezzo che ci manca quindi il nostro custom middleware che ah ho sbagliato che ho per comodità messo subito dopo gli altri middleware come si scrive un middle lo dicevamo è semplicemente una funzione che prendete il parametro rec res next next chiamare quando ho finito se voglio proseguire rec is authenticated next questo è quello che c'era scritto sulle slide ok quindi salvo vado a vedere che non ci sia stati errori è ripartito vediamo se funziona quindi localhost 3000 carico vado su login login carica e not authenticated ok allora ci manca ancora un pezzettino nella richiesta che non c'è andato il cookie il cookie dovrebbe essere spedito automaticamente connect seed è stato spedito perché mi risponde not authenticated rec is authenticated dovremmo avere tutto se qualcuno ha un'idea ovviamente sono sempre benvenute ma adesso cerchiamo di capire quindi rec is authenticated non mi ho risposto serialize the serialize get user by id e db dovrebbe essere giusto vorrei che fosse solo una questione temporanea facciamo una prova giusto per ok io faccio l'operazione questo è il mio storage forse ho il cookie vecchio proviamo a cancellarlo login ok no ignorizzato c'è qualcosa che non qua allora ho dimenticato un pezzo da qualche parte e adesso devo andare alla ricerca di che cosa cosa ho dimenticato va bene questo chi è che mi stampa questo cosa ho dimenticato dunque allora se è il server che mi dice non autorizzato evidentemente c'è qualcosa che non quadra sul server no il server quindi vado a dare un'occhiata al server il codice del server dunque allora dovrei aver messo tutto express eccetera vengono usate direttamente da passport sì no vengono usate direttamente da passport perché io infatti le ho definite così passport.serializeuser cioè in realtà passo una callback e quindi ovviamente come dite voi all'esame l'avevo provato no giustamente ma vabbè costruendolo pezzetto per pezzetto magari uno si scorda qualcosa dovrebbe esserci tutto quindi dev json log it in authenticated next json authenticated quindi ci viene fuori da qua però app use session che magari questo log it in però no questa è una funzione nostra possiamo mettere dove vogliamo dpi courses exams is logged in a meno che non evidentemente c'è qualcosa che non quadra allora vediamo solo se la post di autorizzazione a meno che non sia sbagliato qualcosa qui let's log in user però qui ci veniva fuori la risposta post authenticate dopo mi sa che sta per scadere il tempo quindi non so se riusciamo ad aggiustarlo ma mi scrive su slack cosa c'era che non andava allora sentite più piuttosto che andare a cercare la run in questa maniera che poi facciamo solo passare tempo concentrarmi su quello che ci mancava cosa dobbiamo fare dobbiamo fare in modo che tutte le richieste che richiedano autenticazione siano autenticate quindi come la get api exams abbia un middleware in mezzo is logged in che come sta facendo adesso non so perché ci manda indietro se non siamo autenticati e questo ci sta e soprattutto mi raccomando questa cosa che all'esame si dimentica spesso cioè a me non basta questo che sia autenticata io cioè non mi basta che ci sia un utente qualsiasi autenticato il server sta gestendo 20 utenti 50.000 utenti sono tutti autenticati ma io devo dare ad ognuno solo la sua informazione solo ad ognuno consentire di accedere alla sua informazione come faccio devo andare a recuperare mi raccomando dalla sessione dalla sessione l'identificativo dell'utente e usarlo nel fare la query sul database per dargli solo i suoi dati quindi il get exam list exam ok solo i suoi dati quindi questa cosa deve arrivare qui nella query non col più come abbiamo imparato con questo meccanismo deve arrivare nella query e deve mi raccomando questa è un'altra cosa estremamente importante deve arrivare dalla sessione perché poi lo so già che c'è qualcuno che gli viene l'ideona e scrive user id no 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 ok a parte che non ci piace come 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 organizzato l'uolo questo non va bene questo non è l'utente autenticato questo è un qualsiasi utente autenticato che ci manda la richiesta per chi gli pare user id se noi prendiamo e mettiamo qui rec param user id sbagliamo è sbagliatissimo è un buco enorme di sicurezza perché qualunque utente autenticato può accedere ai dati di un qualunque altro utente basta che lo scriva sull'urlo ok quindi assolutamente no questo ve lo dico perché è uno di quei di quegli errori più frequenti che capitano all'esame perché poi uno comincia a dire ma sì ma io voglio solo gli esami dell'utente tizio eccetera ma allora lo metto come parametro magari l'ha messo anche solo per fare una prova e non va bene perché appunto qualunque utente autenticato può fare la richiesta se io voglio che la richiesta però sia quella garantita che arriva da quell'utente autenticato devo andarlo a prendere direct user e il punto user mi viene creato da passport e mi viene creato sulla base del cookie che è arrivato ok questo qui vabbè abbiamo finito il tempo ma insomma metterei un console log a vedere se rec user id mi spunta fuori l'uno che corrisponde all'utente giusto e la prima cosa che inizia a debuggare perché magari non lo so mi viene fuori per qualche motivo 3 o undefined o non lo so e allora questa fallisce oppure in is logged in succede qualcosa magari il meccanismo di deserializzazione tipo get user id ed id per qualche motivo non mi è venuto fuori giusto non lo so adesso devo un po' devo mettere un po' di console log qui e là per capire cosa sta succedendo però ecco credo fosse l'unico pezzo importante che ci mancava e poi e poi ecco c'era ancora un ultimissimo pezzo proprio in due parole l'avete visto all'avvio all'avvio noi partiamo e andiamo a finire sempre sul formi di autenticazione no ma ma il cookie noi ce l'abbiamo per quale motivo dobbiamo riautenticarci no per quale motivo dobbiamo riautenticarci se il cookie c'è allora come facciamo bene ve lo pubblichiamo e poi la soluzione all'avvio facciamo una use effect sul mount del componente e andiamo a chiederci per prima cosa siamo autenticati se si impostiamo lo stato autenticato e andiamo a fare le richieste autenticate tanto il cookie di sessione ce l'abbiamo ok come facciamo ci dobbiamo creare un api apposta ok ci sarà un api apposta fatta solo per chiedere accessibile senza autenticazione fatta per chiedere se sono autenticato se sono autenticato il server mi dirà quale utente sono quindi Enrico eccetera tutte le informazioni mi risponde con 200 io so che posso andare a fare le query sull'api autenticate perché non posso decidere via javascript perché ho un cookie ma un cookie http only non posso saperlo se c'è o non c'è ok e vabbè poi il logout il bottone di logout è abbastanza semplice insomma la richiesta di api di logout professore l'errore può essere nella definizione della sessione del middle ma non ci vorrebbe un campo cookie allora andiamo a vedere ovviamente chi non può più rimanere online ok si può scollegare ovviamente noi registriamo ma vero si e quindi diceva nel campo sul server vero sto solo andando a cercare diceva in la definizione della sessione del middleware server ah tra l'altro devo salvare spero che quindi diceva ci vorrebbe un campo cookie non capisco dove ah che che ci vada app use cookie lo spuse cookie secondo no può darsi se non siamo scordati simile no ma non lo so onestamente devo andare a provare non so se quello no non c'è un cookie ma come era già devo provare ok quindi attendo che il vostro collega digiti app use session può darsi dice così cookie qualcosa è possibile però non ce l'avevo nella soluzione avendola approvata diciamo che non lo so sto proprio bisognerebbe andare a vedere la documentazione eccetera ma non finiamo più quindi facciamo una prova questo così per la pura soddisfazione no mi sa di no mi sa che si è piantato il server infatti va bene vi vi faccio vedere poi cioè vi troviamo poi il bug e vi dicevo cominciamo dalle funzioni di serializzazione di serializzazione per vedere che lì di passi e passi giusto inizierei di lì ok quindi niente quindi abbiamo sostanzialmente terminato un po' male perché non mi funziona l'esempio ma vabbè pazienza il le lezioni diciamo di teoria vi ricordo come ho detto inizio lezione questo è lo schedo della prossima prossima volte c'è il laboratorio lunedì ci sarà da consegnare poi la prossima settimana abbiamo il seminario quindi chi desidera può collegarsi non è obbligatorio ma è consigliato può essere una cosa interessante e poi abbiamo ancora un ultimo laboratorio il 7 e il 10 probabilmente discuteremo insieme del tema d'esame che pubblicheremo il 9 per il primo appello solo per chi è interessato al primo appello ok va bene grazie per l'attenzione quindi finora vi faccio sapere anche su stack cosa c'era che non andava ovviamente poi si pubblicheremo sul github la in react scorse la versione che funziona completa di tutto quindi anche i pezzi che vi ho detto solo a voce ok grazie e arrivederci a lunedì grazie grazie grazie